Siamo con Gianluca Campagna, molto prima del calcio di rigore, questa tua opera, ce ne parli un po'? Sì, è un romanzo a sfondo calcistico dove il calcio viene visto come linguaggio universale e come fenomeno sociale. Parte da un assunto ben definito, cioè il campionato dello scorso anno del Latina Calcio, che si affaccia per la prima volta alla Serie B e compie un quasi miracolo di provincia perché giunge a 40 minuti dalla Serie A, in finale ne play-off contro il Cesena. Molto prima del calcio di rigore perché prima del calcio di rigore di Cascione che decide le sorti della partita di ritorno di quella finale in Latina Cesena ci sono una serie di delitti in tutte le parti d'Italia che accadono durante le trasferte del Latina Calcio e che vede protagonista un cronista, Marcello Galvisani, precario negli affetti e nel lavoro e uno chef detective di Milano, Giuseppe Cavalcanti, che indaga su questi orrendi delitti. Quanto c'è di autobiografico in questa tua opera? Spesso e volentieri qualcuno mi fa questa domanda proprio perché è inerente a uno dei personaggi principali, il cronista. In realtà Marcello Galvisani è qualcosa che è molto lontano da me, però è chiaro che ci sono delle proiezioni personali come ci sono anche nello chef detective, come ci sono anche le proiezioni personali in tutti gli altri personaggi del romanzo anche i comprimari, i personaggi secondari e terziati. Questo proprio perché quando si scrive un romanzo, un libro, un'opera di narrativa i personaggi debbano essere una proiezione autentica, vera di quello che scrive affinché le azioni, i pensieri, i sentimenti, le emozioni di questa persona possano essere reali in modo che proprio i personaggi debbano risultare di carne e sangue piuttosto che di inchiostro e carta. Non hai scelto il calcio come ambientazione, come sfondo di questa tua opera? Il calcio è linguaggio universale, è un collante incredibile tra i vari ceti sociali, è un argomento, un tema che va oltre i confini, azzera le distanze sociali, accorcia le distanze della comunicazione ed è uno straordinario collante sociale. In programma magari di fare un bis? Sì, dove però il calcio non è dominante come molto prima del calcio di rigore, è soltanto sfiorato perché comunque il calcio viene sempre visto nel prossimo romanzo come metafora di vita.